Al frattempo Regia, se ci fai vedere la vignetta che si riferisce a Luca Carra, al direttore generale, firmata da Antonio Buemi Bante che è qui con noi. Facciamo un applauso ad Antonio. Grazie. Tu la conoscevi? No, non la conoscevo. Perfetto, allora questa gliela regaliamo, chiaramente così lui poi fa una cornice. Noi tra un po' alla ripresa della seconda parte parleremo del tuo libro. Tu sei alla seconda edizione, ma a questo punto ne parleremo. Secondo volume. Sì, secondo volume. No, no, ma io faccio venire delle ragazze, tu avrai il tuo microfono e quindi noi affronteremo. Intanto quella era la vignetta del direttore. La direttore ti è piaciuta? Molto. Poi mi ha messo anche la giacca da cantiere che in questo periodo tra anesi e stadio sono effettivamente... Prima di andare in pubblicità abbiamo un'altra domanda.